Quali sono i migliori rimedi per flatulenza? Alcuni dei rimedi migliori per flatulenza includono compresse di carbone, tè alla menta e integratori di lattasi. Per molti, tuttavia, la prevenzione della flatulenza può essere più facile e più efficace rispetto al tentativo di trattarla dopo che si è sviluppata. Alcune persone possono tentare di impedirlo apportando cambiamenti nella loro dieta ed evitando di bere bevande attraverso cannucce o kewing gum. È importante, tuttavia, capire che la maggior parte delle persone passa il gas più volte al giorno. Il trattamento non è di solito necessario, ma una persona può rivolgersi a rimedi per flatulenza per sbarazzarsi di gas eccessivo o doloroso. Uno dei migliori rimedi per flatulenza è carbone attivo. Quando una persona mastica le pastiglie di carbone attivo prima e dopo aver consumato un pasto, il carbone può aiutare ad assorbire il gas in eccesso. Queste compresse sono in genere disponibili nella maggior parte delle farmacie e una persona può trovarle in un negozio di alimenti naturali. Sono disponibili al banco e generalmente sono considerati sicuri. Un individuo che prende le medicine, tuttavia, può fare bene a chiedere al proprio medico se il carbone attivo è sicuro per lui da usare, in quanto può assorbire parte del farmaco che sta assumendo insieme al gas in eccesso. Il tè alla menta piparita è anche uno dei migliori rimedi per la flatulenza. L'olio di menta piparita trovato nel tè alla menta contiene una sostanza chiamata mentolo. Questa sostanza può aiutare a calmare gli spasmi muscolari digestivi e ridurre il gas. Un individuo può anche ottenere sollievo masticando la menta piparita. Sfortunatamente, tuttavia, alcune persone potrebbero notare bruciori di stomaco più frequente dopo aver consumato la menta piparita. Alcune persone sono intolleranti al lattosio, il che significa che i loro corpi hanno difficoltà a digerire uno zucchero da latte che viene indicato come lattosio. Uno dei sintomi dell'intolleranza al lattosio è il gas. Prendendo prodotti che contengono un enzima chiamato lattasi, una persona potrebbe avere un tempo più facile per digerire il lattosio e avere meno gas. Inoltre, una persona può acquistare prodotti caseari che sono stati modificati per essere privi di lattosio nel tentativo di evitare l'eccesso di gas. In alcuni casi, una persona può cambiare la sua dieta per prevenire la flatulenza piuttosto che trattarla dopo il fatto. Ad esempio, una persona può mangiare meno fagioli e verdure che incoraggiano la flatulenza, come broccoli, cavolfiori e cavoli. Un individuo può anche evitare cibi grassi e ridurre il consumo di prodotti lattiero-caseari nel tentativo di eliminare la flatulenza. Inoltre, una persona potrebbe evitare di bere bevande attraverso cannucce o kewing gum nel tentativo di avere meno gas.